5 persone fermate dai carabinieri ed altrettante finite in ospedale. E' questo il bilancio della maxirissa scoppiata ieri sera nel centro di Terlizzi. A scontrarsi due gruppi di immigrati nordafricani venuti alle mani tra Piazza 4 Novembre e Via Nicola Quercia, poco lontano da Palazzo di Città. Più di una decina i migranti coinvolti di origine marocchina e senegalese. 4 di loro sono stati medicati nel nosocomio locale con ferite ed escoriazioni varie. A finire al pronto soccorso, in stato di shock, anche un agente della polizia locale, Laura Scicutella, intervenuta nel tentativo di sedare gli animi. Dopo approfonditi accertamenti dei sanitari, la donna è stata dimessa. In base ad una prima ricostruzione, tutto sarebbe cominciato da una discussione tra due migranti per futili motivi. Ma presto dalle parole si è passati ai fatti ed il violento litigio si è allargato a più persone che si sono affrontate a colpi di bastoni e coltelli. Due giovani sanguinanti avrebbero provato a fuggire inseguiti da un gruppo di extracomunitari, trovando rifugio nel portone d'ingresso di uno stabile. Un altro ragazzo di nazionalità marocchina sarebbe invece rimasto a terra, privo di sensi, poco lontano dall'ufficio postale di Via Nicola Quercia. Qui sarebbe avvenuta l'aggressione ai danni della vigilessa, malmenata mentre cercava di riportare l'ordine. A soccorrerla è intervenuta un'ambulanza del 118. Nel parapiglia generale, che ha visto accorrere in piazza anche dei passanti attirati dalle urla, alcuni immigrati sono riusciti a dileguarsi, mentre altri cinque sono stati sottoposti a fermo dai carabinieri, giunti sul posto assieme ad agenti della polizia locale e ad alcune guardie giurate. Sull'episodio sono in corso le indagini dei militari che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e di risalire all'identità di tutti i responsabili. Solidarietà alla gente ferita è stata espressa dal sindaco di Terlizzi, Nini Gemmato, che ha voluto ringraziare gli operatori del 118 e tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine a corsi per riportare la calma. Solo il loro tempestivo intervento, ha sottolineato il primo cittadino, ha impedito che, quanto accaduto, non avesse conseguenze ben più drammatiche.